E' una storia vecchia perché noi ci pregiamo, e poi diciamo all'incirca nell'Ottocento siamo diventati una realtà un pochino industriale. E poi di lì, da quegli anni lì in poi, è cresciuto, è diventato abbastanza importante agli inizi del Novecento, importante nel senso di numero di addetti, che erano diverse centinaia. La nostra vitale bello scanonico, praticamente così com'è, è nata nel 1937 o nel 1938. Subito dopo c'è stata la guerra, come è noto, per cui si è stati costretti ad abbandonarla, nel dopoguerra mio padre è ripartito poi con la lana, negli anni, fine anni 40, anni 50, con qualità abbastanza basse, e mano a mano è salito di qualità. Per parlare della vitale bello scanonico credo che bisogna iniziare a parlare di mio padre, che ha lasciato a noi un'azienda in buone condizioni, affermata nel mercato, però una delle tante piccole aziende che c'erano nel Bialese. Siamo poi subentrati Luciano e Dio nel 1965. Abbiamo continuato questo incremento di standard qualitativo e adesso la qualità è ottima e siamo una ditta sicuramente riconosciuta come produttore eccellente di tessuti da uomo. Noi tendiamo a ispirarci al passato, quindi questo è fondamentale. Poi è chiaro, può esserci l'idea nuova, tanti per esempio fanno un prodotto magari più tecnico, applicano dei finissaggi più chimici, fanno delle altre cose. Noi comunque riteniamo che un bel tessuto fatto bene sia insuperabile, quindi è inutile migliorare una cosa che di per sé è già perfetta. Qui la scelta è stata fatta di produrre tutto in Italia, anche la pettinatura, ed è una scelta nella quale abbiamo creduto e da un punto di vista storico si è rivelata buona e non lo siamo fatti pentiti. Quindi controlliamo anche la pettinatura, quindi lavaggio, la pulizia, tutta la parte di trasformazione dal sucido al tops, proprio per avere la massima costanza di prodotto. L'azienda ha subito un forte sviluppo tecnologico negli ultimi 30 anni e siamo un'azienda leader al mondo per un prodotto di alto livello, assolutamente made in Italy. Io all'inizio degli anni 70 ho cominciato ad andare in Australia proprio per cercare di capire, provando un tipo di lana, una certa razza di pecore, facendo certi finissaggi per vedere che tessuti venivano fuori ed erano tessuti più adatti a quelli che erano le esigenze del mercato. La valutazione di una balla di lana si basa essenzialmente su degli aspetti visivi e degli aspetti fisici. La prima cosa da valutare è innanzitutto se una balla è formata da velli, quindi la parte più nobile della pecora, e valutarne l'omogeneità. Questa balla è stata acquistata direttamente dalla fattoria Green Hills di Maggi. Siamo in una regione 200 km a ovest di Sydney ed è una delle due fattorie che appartiene a Vitale Barberis Canonico. È una fattoria che insieme alla seconda, detta Clavering, costituisce la Pyramul Pastoral, che è appunto l'enclave rurale australiana di Vitale Barberis Canonico. Certo, è importante la materia prima, è importante il gusto, però voglio dire la serietà e tutto quello che c'è dietro è solo fatto dagli uomini, quindi questo è fondamentale. Noi abbiamo per esempio dei dipendenti che sono terza o quarta generazione, quindi i loro, magari i padri erano operai qua, i loro nonni, quindi veramente c'è questo feeling familiare che rende questa azienda direi unica nel panorama biellese e credo nel mondo. Questa azienda ha sempre avuto un grosso interesse a rinnovarsi. In questo caso l'ingegnere Alberto creava, modificava delle macchinari esistenti adeguandoli alla nostra realtà. In casa il connubio tra azienda e famiglia era indissolubile, mio padre arrivava tardi e chiacchieravamo, lui mi spiegava cosa faceva, nuovo impianto, mi prometteva che mi avrebbe fatto vedere la nuova Aska, come questa di tintoria, queste sono moderne ma c'erano le nuove installazioni. La fabbrica stava crescendo, erano gli anni 70, quindi stava accelerando la sua evoluzione e mi ricordo che ogni domenica, ogni 15 giorni c'era qualcosa nuovo da vedere, era bellissimo. L'evoluzione tecnologica di quegli anni era in incremento fondamentale. Mio zio aumentava l'esposizione e le vendite sui mercati e quindi si vedeva tutto questo provvedere. La cerca poi fondamentale è stata quella nel prodotto, nel tessuto, che era evidentemente mirare a fare un tessuto più adatto a quella che era la vita moderna. Questa è un'azienda familiare e la famiglia è molto vicina. Io sono cresciuta 100 metri da qua, nella casa che era di mio nonno Vitale, con mia mamma e mio papà, e quando eravamo piccoli ci portavano, come a suo tempo faceva il nonno con i suoi figli, ci portavano il sabato e la domenica a patinare, magari in mezzo ai filatoi, in mezzo ai telai. E da quando sono piccola io vivo e respiro questa azienda. Cosa è successo? Abbiamo preso la direzione esattamente opposta a quella di tutti gli altri. Abbiamo preso la lana più difficile da pettinare e da filare, quindi che faceva un filo che costava un pochino di più, però era un filo un po' più gonfio e che avrebbe fatto un tessuto un po' più gonfio e più morbido, più adattabile a quello che è il corpo umano. Questo è stato un po' il segreto, che adesso ormai conoscono tutti, di questa azienda, che è andata avanti su questa linea di queste lane e ancora oggi siamo lì. Un tessuto che è costruito bene, cioè nel senso che è sano, nel senso che non si apre, che non si sgualcisce. Fatto bene, è una cosa robusta, fatta per durare nel tempo, una cosa duratura, costruita bene. Famiglia, aziende, qualità, è tutto un discorso in effetti, è tutto un meccanismo, è un meccanismo che sfocia in un progetto ed è quello appunto che noi cerchiamo di portare avanti, che mio nonno ha messo in piedi, che i miei zii hanno portato avanti, che è il nostro compito portare avanti. Lavorare tutti insieme per portare questa qualità e questa cultura di saper fare nel mondo. È fondamentale, cioè noi dobbiamo sempre stare sul mercato, quindi dobbiamo essere molto attenti alle varie tendenze, di cosa si vende, eccetera. Però comunque noi facciamo degli articoli che sono unici, che non producono neanche più in Inghilterra e ne siamo assolutamente fieri di questa cosa. Siamo una specie di bastione per quanto riguarda un certo tipo di vestire e di gusto. La Barberis è unica nel senso che è un'azienda che si ispira molto al passato per quanto riguarda il gusto e il prodotto, che questo è fondamentale. Cioè noi non seguiamo molto le modi, le tendenze, cerchiamo di essere molto tradizionalisti, ovviamente però avendo un prodotto tradizionale di gusto però rendendolo attuale, cioè con pesi più leggeri perché oggi ormai gli uffici e le case sono riscaldate ed è un prodotto che poi alla fine piace. Vendiamo dai Sarti di Londra fino al Modaiolo di New York, quindi è un prodotto che sembra piacere a tutti. Un tessuto nasce da spesso un'idea. Noi abbiamo sei disegnatori che sono bravissimi e ci ispiriamo tante volte a delle fotografie, anche vecchie fotografie eccetera. E poi guardando le vetrine, insomma i colori, le fantasie, i mix. Ma quello che è interessante sono i tessuti dove praticamente un disegnatore quando programma il telaio per fare un fazzoletto, il fazzoletto sarebbe un'idea di un disegno di tessuto, prova tutta una serie di combinazioni che sono programmate e premeditate. Vengono però fuori delle combinazioni che non sono studiate e a volte vengono fuori delle cose incredibili. Quindi mescolando diversi colori o in trecci diversi oppure fantasie diverse, il disegnatore ha un tot di numero di disegni, di fantasie che si aspetta e dice ah questo speravo che venisse così, speravo venisse più scuro, più chiaro eccetera. Però vengono fuori tutta una serie di combinazioni del tutto casuali che a volte sono incredibili. Quindi tantissime volte molti tessuti non sono stati disegnati ma sono venuti fuori per mera casualità. La ricerca naturalmente è stata fatta sul prodotto, la ricerca è stata fatta sulle materie prime, la ricerca è stata fatta sugli impianti, ma la ricerca è anche stata fatta nell'intreccio di queste cose. C'è questo interessante mix che è tra modernità e tradizione. È l'amore e la passione umana per il prodotto e per il bello che non può essere replicato da un computer e praticamente è una gara tra macchina e l'uomo. È l'uomo che controlla la macchina e la macchina che controlla l'uomo. E questo inizia dalla tosa della materia prima fino al prodotto finito che viene controllato più volte dall'occhio umano. Noi facciamo tantissimi studi tutto l'anno, tutto il giorno. Dobbiamo sempre essere propositivi. Cerchiamo di seguire un po' le tendenze anche a livello di colore. Ultimamente abbiamo fatto tante cose nuove anche come fantasia. Dobbiamo comunque cercare di invogliare il cliente e anche il cliente finale a entrare in negozio e a trovare qualcosa di nuovo. La gente è piena di abiti grigi, è piena di blazer blu, quindi il nostro dovere è quello comunque di continuare a proporre cose nuove. La forza della Barberis è la serietà, la continuità, lo standard qualitativo, che lo standard qualitativo non è solo il farla bene, è continuare a farla uguale. E questa è stata la grande forza della Barberis, legata a una serietà unica. Il fatto di produrre così tanti metri a un livello così alto è comunque una cartina di tornasole e una continua conferma che siamo comunque sulla strada giusta. Farei una differenza, è vero che la famiglia è tenuta insieme dall'amore, ma il lavoro invece è tenuto insieme dalla passione. Quindi forse più che amore io in azienda parlerei di passione, passione del prodotto, passione del saper fare e anche un po' dimostrare che questa famiglia, ma io dico la famiglia azienda, la famiglia fatta di queste 360 persone che lavorano insieme, con passione portano un prodotto di qualità e lo portano in tutto il mondo. È passione e orgoglio di essere parte di un veicolo che porta l'espressione del nostro bello in tutto il mondo. Noi lavoriamo per questo.